Beh ragazzi il mio parla e oggi siamo qui su Clash Royale l'episodio 31 E oggi siamo qui come sempre per spacchettare e ovviamente dobbiamo fare un attacco per trovare Si per trovare vabbè convinto Sono arrivato in arena leggendaria ma visto che sono un imbecille mi sono incavolato talmente tanto Che ho fatto talmente tante partite che le ho perse tutte Da 3000 a 2600 anzi se non ci credete vi faccio vedere il record 3059 sono un fottuto idiota e lo credo bene ma ho questo ragazzi questo Sei partite vinte e ho anche il baule del clan da aprire ovviamente andiamo subito ad aprirlo Oh già un'epica ma niente I barbari scelti dappertutto non ce n'è uno che non li usa Sono diventati come i barbari e niente nel baule d'oro Prima di aprire questi ultimi due bauli direi di farci un attacco Così apriamo anche il baule della corona ma si dai Guardate guardate quanto dolce Dammi la valchiria dammi la valchiria subito Mettila lì in mezzo oh bravo No questa non ci voleva No la gelo Che bastardo Però ora non dovrebbe aver Ho sbagliato il minatore Si? No pensavi Dai dagli un colpo minuto No ma perché? Dagli un colpo Oh mio dio si Si grandissimo No io ve l'ho detto o no? Ve l'ho detto o no? Guarda fanno più danno di un pecca al 10 Guardate quanti danni la Elay so dove abiti Lancia una bella palla di fuoco qua Tranquilli Tutto sotto control Non dimentichiamoci che ha la gelo Eh volevi Ops Dagli una bella fireball qui Oh Che benessere Che benessere Ah ma lui mi ha fatto fuori una torde No mi serve la palla di Minatore Minatore per favore No No Dai palla di fuoco Oh no 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 Non ci credo La gelo sull'alto No No Porta miseria Devo farmene un'altra Ho appena fatto una partita Ovviamente non l'ho registrata Quando lo registro le vinco E quando Quando registro le perdo Come è possibile? Come? Ah finalmente il baure della corona Che non ci darà niente Ah un'epica Va bene dai Gli ultimi due bauli Andiamo a spacchettarli I bauli del crank è livello 8 se non sbaglio Quindi probabilmente non troveremo niente Giusto? Esatto 3 epiche 4? 4 Ancora Ancora ordre di sghiera L'ultimo baul è quello da 6 vittorie Qui potremmo anche trovare qualcosa 6200 What the fuck Guarda quanta roba Bah Mica tanta Oh Non ci credo No tu mi prendi per il culo Tu mi prendi per il culo Mi ha dato solo scheletri Non ci credo Basta Può terminare qui l'episodio Subito dopo apro il baule del clan Del mio secondo profilo Però Non avevo registrato E guardate un po' cosa trovo